Ciao a tutti, sono Don't Play e oggi siamo tornati su Clash Royale. Allora, eravamo le Murphy che ha sempre questo deck, non c'è più niente da donare e non c'è più un dettaglio. E' molto meglio. E' molto meglio. E' molto meglio. Ci metto questo. Il suo corpo è morto. Il suo corpo è morto. Sono morto. Il suo corpo è morto. Mettiamo il cucciolo di bravo e il maschettino ad osservare la fila E poi non bisogna farlo fino a fila Allora, vivendo il ruolo che riusciamo a fermare La scelta di vicino a cura, voglio mantenere l'aria Conversiamo la caricatura La scelta di soltino che non potremmo stare giù Questa è un luogo truca Mi faccio il motore di un minuto E poi, a un luogo traccio Il suo modo, la scelta di un minuto perché sono molto forti, un po' molto vedenti. Bombarola è anche forte, però non sempre mi piace, è un po' curioso. Oddio no! Questa è un'imparità, non è un'imparità. Alla qui è morgando da scattarci. C'è un'imparità. Questa è un'imparità. Questa è un'imparità. Bombarola è un'imparità. Mettiamo questo. Questa è un'imparità. E poi un mini petto. E poi c'è un'imparità. C'è un'imparità. E poi c'è un'imparità. E poi c'è un'imparità. E non mi metto tutto. Sì, va bene. Che è veramente molto bene. E' veramente molto bello. Funzione? ci metto tutto il mio vento e non riesco a passare guarda un po' guarda un po' guarda un po'